È stata una grande iniziativa quella che ho visto oggi, sono venuto per curiosità, per vedere che cosa succedeva in Emilia Romagna e ho appreso molto perché mi sono reso conto delle tante esperienze, degli incontri tra soggetti diversi, il CSV che funziona da motore e da cerniera per mettere insieme volontariato, famiglie, istituzioni, insomma un qualche cosa di nuovo e di diverso del progetto che io conosco in Regione Lombardia. Il nostro progetto è molto simile ma è stato molto alimentato dall'alto, dunque mi permetto solo di confrontare l'esito di ciò che ho visto oggi con i due anni di esperienza che mi è dato conoscere del progetto Lombardo e questo primo confronto è aver registrato un grande movimento e una fertilità di valori e di azioni, di progetti e di traguardi sorti per iniziativa quasi spontanea. Da noi che c'è molta più struttura di quello che qui ho potuto registrare oggi, certamente ha di suo quello dell'essere alimentato da un coordinamento regionale e da tante azioni strutturate. credo dunque che il nostro incontro, quello della Lombardia e della vostra importante esperienza dell'Emilia-Romagna sia un incontro necessario e spero avvenga a breve.